Si sapeva che non sarebbe stata una partita facile per la Juve contro un'avversaria come l'Atalanta ma soprattutto dopo la stangata del meno 15 in classifica e infatti parte male la formazione di Allegri va sotto, poi la ribalta, poi si fa di nuovo raggiungere e addirittura superare e ritrova il pareggio, il gol del 3-3 con una punizione di Danilo su tocco furbo di Di Maria che è stato il migliore in campo. 8 a Di Maria, 7,5 a Milik che fa un gol fantastico, quello del momentaneo 2-1 7 a Fagioli, imprescindibile, quando io lo dico ho ragione Speriamo che Allegri finalmente se ne sia reso conto una volta per tutte perché si procura il rigore dell'1-1 e poi serve appunto a Milik il pallone del bellissimo momentaneo 2-1 bianconero E poi arriviamo alle notte dolenti, il citopolo polacco quello che se ci metti una sagoma di cartone in porta è la stessa cosa, anzi forse è meglio perché se almeno il pallone c'entra la sagoma di cartone rimbalza, torna indietro si becca un bel 2! Avete visto che cosa ha combinato sul gol dell'1-0 dell'Atalanta? È giusto un citofono come lui poteva combinare una cosa del genere da defenestrare immediatamente all'istante Non verrà affatto ovviamente, ma vabbè noi continuiamo ad aspettare e a sperare 3-4 fate voi all'impresentabile ormai sempre più imbarazzante Alexandro che si addormenta completamente in occasione del terzo gol Atalantino ma si era già addormentato in altre occasioni e poi Maluccio Federico Chiesa quando è entrato dopo il fantastico gol in Coppa Italia col Monza 5.5 per lui entra invece con un piglio diverso Ken che pur senza fare nulla di eccezionale comunque riesce a strappare la sufficienza e poi questa menzione per Massimiliano Allegri il vate del cortomuso, quello della difesa di ferro quale difesa di ferro? 7 gol, anzi 8 perché scusate io non sono fortissimo in matematica ma effettivamente 5 più 3 fa 8 8 gol in 2 partite ha subito la Juventus altro che difesa di ferro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti